Andrea Ghignone, sindaco di Moasca, siamo qui proprio a pochi chilometri da Moasca, in questa azienda che abbiamo visto, allevamento di capre, produzione di formaggi, allevamento di cavalli da corsa, qui a Moasca tra le vigne di Moscato e di Barbera, ma sindaco che è anche presidente di una cantina sociale. L'Astigiano può diventare davvero un terreno interessante per queste, tra virgolette, start-up di agroeccellenze, secondo lei? Sì, secondo me sì, dobbiamo saperlo valorizzare, per noi, per Moasca, questa azienda è un fiorellocchiello e i formaggi di Moasca sono qualcosa di particolare, una particolarità che vogliamo far conoscere e promuovere e quindi poter abbinare ai nostri vini un formaggio che viene prodotto qua, con capre allevate sul territorio a Moasca, per noi è una particolarità e qualcosa che deve essere promosso e valorizzato, questo non è un esempio. Ma secondo lei, come dicevo, il territorio riuscirà a rispondere a queste richieste? Certo, non è facile, perché questa è una particolarità, è un'eccezione, non è la regola, è chiaro che dobbiamo ancora lavorare molto, è chiaro che ci troviamo in un momento di transizione, in un momento che dobbiamo saper fare un corsaggio di qualità, il riconoscimento unesco e tutta la valorizzazione che cerchiamo di fare lo porterà, questa è una sfida che questa azienda ha voluto fare, chiaramente, come ho detto prima, è un'eccezione, noi puntiamo molto, vogliamo promuoverla, pensiamo che si possa fare, bisogna crederci, bisogna crederci molto. A proposito di fede, le istituzioni da questo punto di vista possono fare molto, il loro ruolo quale potrebbe essere? Lei è un uomo di istituzioni, quindi si lasci andare su queste dichiarazioni. Le istituzioni ultimamente sono anche in forti difficoltà, in forte crisi, i piccoli comuni hanno bisogno di fare squadra, c'è purtroppo una pressione forte, abbiamo visto quella pressione sull'abolizione delle province che ci ha portato un po' a avere per la nostra provincia, per una piccola provincia, una grossa difficoltà, 118 comuni per la provincia di Asti, di cui comuni come Moascadini e anche 500 abitanti sono in enorme difficoltà, dobbiamo avere un aiuto da parte dello Stato, credere di più in quello che è il piccolo e la valorizzazione, se ne parla da tempo ma se non ci sono le risorse diventa difficile, purtroppo gli anni sono difficili. Grazie Sindaco. Grazie a voi, ancora un arrivederci a Moasca e sui formaggi di Moasca. Grazie.